Si fu una domanda, quando abbiamo il contatto con l'avversario, l'avversario però non attacca subito ma indietreggia, bisogna seguire il contatto dell'avversario o attaccare direttamente? Allora questo va gestito perché se io sto con le braccia fuori o sto con le braccia dietro diventa dall'angolazione che ho, com'è che tu vai prima un po' indietro e poi attacchi verso di me, chiaramente io dal contatto lo sento che lui, io lo vado a caricare subito, se sto fuori o sto dentro, se lui carica io vado direttamente, non posso rischiare che poi dopo lui carica su di me e si crea un problema, anche dopo ho possibilità ma se lo faccio immediatamente è più vantaggioso. Questo ha contatto e se io invece togliesse il contatto? Eh sempre, tu se togli le mani, le mie mani non vanno a cercare le tue mani, vanno a cercare il bersaglio, perché nel ciso io cerco il bersaglio continuamente, non vado a cercare le mani, voglio, il target è sempre il corpo, il volto, ok? Sì.